Assessore Coppola, presentazione dell'annuario, un annuario sui diritti umani che nasce dal Veneto, una regione che continua a mantenere il focus sull'argomento. Sì, direi che su questo siamo veramente i primi della classe. Noi siamo stati la prima regione che nell'88 si è dotato di una sua legge, poi rinovellata nel 99, una legge appunto sui diritti umani, sulla pace e sulla cooperazione allo sviluppo. Una legge che ha fatto scuola, ma che soprattutto ha permesso di poter creare una rete straordinaria con le amministrazioni locali, quindi con tutti gli enti locali, con le associazioni, le tante e tantissime associazioni di volontariato, queste supportate da un'eccellenza. L'eccellenza appunto dell'Università di Padova, con il professor Papisca, il professor Mascia. Quindi un'eccellenza direi non solo nazionale, ma europea e internazionale. Tanto che noi siamo anche sede appunto qui a Venezia del Master in diritti umani che collabora con oltre 100 università nel mondo, ma che qui ha un accordo specifico con 41 università europee. Quindi questi sono numeri che credo pochi possano vantare, ma che hanno alle spalle una storia, una storia di grande spessore che appunto l'annuario di fatto in qualche modo racchiude non solo sulla storia, ma appunto su tutti i provvedimenti e tutte le raccomandazioni, sono oltre 90, le raccomandazioni che vengono appunto dall'Unione Europea e dai vari consigli, ovviamente da quello dell'ONU che è l'ente in qualche modo sovrano in questo, ma attorno a temi che sono assolutamente trasversali. Noi credo che nella nostra quotidianità tutti i temi che affrontiamo, dai temi dell'infanzia, ai temi delle donne, ai temi dei migranti, ai temi comunque della nostra quotidianità, parliamo di diritti umani. Di diritti che spesso vediamo violati, ma che mai, come adesso, meritano, in un momento anche difficile di valori, di essere assolutamente tenuti in grande, grandissima considerazione.